Musica Rassegna stampa di oggi, giovedì 13 agosto 2015 Buongiorno a tutti e ben ritrovati Sono le 7.30 e siamo in diretta Ovviamente un saluto anche a coloro che ci vedono e ci guardano in replica O su internet nel nostro portale occhialanotizia.it Il santo del giorno, vediamolo subito Oggi sono due, Sant'Ippolito e Ponziano, martiri Il sole è sorto alle 6.09 e tramonterà alle 20.17 Il cielo sarà oggi sereno o al più poco nuvoloso Per lieve ed innocua attività comuniforme nei settori interni della nostra regione Le temperature saranno in lieve aumento durante il corso della giornata I venti settentrionali di brezza leggera Per la giornata di domani, venerdì 14, vigilia di ferragosto Cielo poco o parzialmente nuvoloso Con possibili locali rovesci durante il pomeriggio Temperatura senza variazione di rilievo I venti saranno sud occidentale Il mare poco mosso per la giornata di sabato Il giorno di ferragosto, già questo lo sapevamo Insomma, è la giornata un po' così Tutta incerta ancora Con cielo parzialmente nuvoloso A tratti nuvoloso Con addensamenti anche intensi Che daranno luogo a locali rovescio temporali Anche di forte intensità Le temperature sono stazionarie O laddove pioverà Saranno in lieve diminuzione I venti di brezza leggera o brezza tesa Attenzione, dai quadranti meridionali Con raffiche in caso di temporale Il mare di conseguenza sarà mosso Per la giornata di domenica Secondo la protezione civile delle Marche Sarà una giornata caratterizzata dal tempo perturbato Seguito da un graduale miglioramento della situazione E allora, cominciamo a leggere i giornali Dal Corriere Adriatico Senigallia Malore Shock in mare Muore a 37 anni La vittima Daniele Serenelli Di Iese È stato visto a Naspare Mentre faceva il bagno Con la nipote A 20 metri dalla riva Vedete la fotografia Di uno di quei momenti Che purtroppo sarà capitato Anche a voi Di vedere in spiaggia E non sempre Vedete qui hanno fatto Hanno messo tutti questi ombrelloni Sulla battigia Per riparare il corpo senza vita Di quest'uomo Qua i sanitari che cercano di rianimarlo La folla, i bagnanti Che a distanza Osservano Le operazioni di soccorso Ma il Corriere Adriatico Riporta E questa è la cosa davvero incredibile Le proteste di alcuni turisti Allontanati E una signora Una signora Che dice Ad un carabiniere Spero abbiate Delle valide ragioni Per impedirmi Di passare sulla battigia Le parole Di una turista Scocciata Rivolte ad un carabiniere Che invece Gentilmente Le ha chiesto Di passare oltre La distesa Di ombrelloni Che proteggevano Il corpo del 37enne La turista Pretendeva di passeggiare Sul bagnasciuga Dove la sabbia è compatta E non sulla sabbia vellutata Che le si sarebbe attaccate Ai piedi bagnati Il carabiniere Le dice Signora È morta una persona La replica Sempre Garbata Appunto Di questo carabiniere Che in tutta risposta Ha ottenuto Una smorfia Di sdegno Sempre dalla pagina In Senigallia Squadre Antisballo Per Ferragosto Task force In campo Contro alcol Ed eccessi Vietati i falò Consentiti I gavettoni L'importante Che non siano Molesti Forse Adesso Bisognerà capire Però Le modalità Insomma Di questi gavettoni La sera di venerdì Sono previste Deroghe Per tutti gli stabilimenti Balneari Che potranno Organizzare dunque Delle feste La nuova moda Degli assorbenti interni Imbevuti di alcol Addirittura Il ginecologo Lucio Massaccesi Lancia l'allarme Questa non la sapevo La nuova moda Degli assorbenti interni Imbevuti di alcol Ok La pagina di Pesaro Del Corriere Adriatico Si occupa Di un'intervista Un'intervista Al questore Di Pesaro E Urbino La prima estate Pesarese Del questore Questore Antonio Lauriola Con La signora All'uscita Della prima Della gazaladra A Pesaro Furti Droga Incendi Abusivismo E tanti grandi eventi Il questore Racconta La stagione bollente Della provincia La scuola Alberghiero Per i solai Verifica positiva Resta l'urgenza Dei lavori Per gli studenti Dell'istituto La scuola Potrebbe iniziare Il primo di ottobre Dunque Qualche settimana dopo Rispetto All'inizio Stabilito Dal calendario Regionale Da Fano Invece Fermo Pesca Rabbia della marineria Il direttore Del mercato Ittico La divisione Geografica Penalizza Duramente La flottiglia Fanese Dal lunedì Al 27 settembre Tutte le imbarcazioni Dotate di reti A strascico Resteranno All'ancora Rosciano E Borgo Cavour Quartieri In festa Ispirazione Country Per il festival Della locale Associazione Mentre i commercianti Del centro Raddoppiano L'appuntamento Sono due Feste Due feste Di quartiere Stiamo parlando Quella Country Di Rosciano Di Fano E quella Di Borgo Cavour L'altra pagina Del Corriere Adriatico Invece Da Pergola La notte verde Si accende Di buon mattino La manifestazione Si arricchisce Di una passeggiata In mountain bike Una giornata Di eventi E di iniziative Come vedete Sono tante Appunto Queste iniziative In questi giorni Ferragostani Iper Ferragosto Al lavoro Aperti Molti punti Della media E grande Distribuzione Con l'eccezione Invece Della COP I sindacati Protestano E lamentano Pressioni Sui dipendenti Per inserirli Nei turni Sotto Invece Notte delle candele Mi illumino D'immenso In mattinata Diversi bagnini Temevano che il mare Parecchio mosso E il vento Che soffiava Sulla costa Avrebbero rovinato La notte delle candele Invece E noi Possiamo Testimoniarlo Perché eravamo lì Devo dire È stato davvero Una manifestazione Molto 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 Bella Straordinaria Tra l'altro Come vi faremo sentire Nel telegiornale di questa sera In una intervista Che abbiamo realizzato Ieri sera Intorno alle 11 Intorno alle 23 Proprio sulla battigia Al sindaco di Pesaro Matteo Ricci Ricci diceva Beh insomma Chiederemo Perché no Così come abbiamo allungato La notte rosa Potremmo allungare anche La notte delle candele Quindi farla arrivare Fino a Fano E adesso vedremo Insomma se Visto che i nostri Mancano molto di fantasia Abbiamo Abbiamo un black out Quest'anno Non si capisce Cosa è successo Ma insomma Prendiamo anche questa idea Quindi sarebbe interessante Poter prolungare Quest'iniziativa Dicevamo degli iper aperti A Ferragosto Sempre dal messaggero I sindacati protestano E lamentano pressioni L'abbiamo già visto Poi a Fosso Signore Sesso sugli scogli Mentre il treno va Tra imbarazzo e stupore La coppia è stata anche Immortalata A scambiarsi Bollenti Effusioni Poi Il dramma di Giorgia Giorgia che finalmente È tornata a casa È tornata a Pesaro Domani i funerali Della sorella Gloria Un messaggio liberatorio Quello di Mirko Ballerini Lasciato ieri su Facebook Per informare I tanti amici e conoscenti Che la nipote Giorgia La 26enne Ferita in un incidente In Australia Lo scorso 24 luglio È rientrata In città Sempre dal messaggero Anche qui vedete Fotografie Fotografie Che testimoniano il successo Di questa iniziativa In migliaia Ieri sera Si sono dati appuntamento In spiaggia 5 km di litorale Romanticamente illuminato Ricci La degna conclusione Di un'estate da record Credo che molti ora Parleranno di noi Contratti telefonici Intestati A ditte e VIP Arrestati per truffa VIP sta per persone importanti Very important person Arrestati per truffa Bloccati dalla mobile di Ancona Al Grot Center di Camerano Un musicista di San Costanzo E l'amico straniero Che vive a Fano Ferragosto si mobilita Pesaro la Croce Rossa E poi sotto Ancora Il problema dei lupi E dei cinghiali Sempre presenti In provincia di Pese d'Urbino L'appello del Presidente Della Camera di Commercio Alberto Drudi Aziende agricole Sotto scacco Poi dalla pagina di Fano Invece del messaggero Ancora Si occupa Della mancanza d'acqua Nel canale Albani Che sta causando Una moria di pesci Lungo tutto Il corso D'acqua Scoperta Una chiazza Sospetta Gli animalisti Presenterebbero alcuni Caratteristici Sintomi di Scusate Gli animali Presenterebbero alcuni Caratteristici Sintomi Di avvelenamento C'è stato un sopralluogo Dell'ARPAM E i tecnici hanno prelevato Campioni di questa macchia Occorre accertare Se esista o meno Una correlazione Tra la moria Di pesci E la comparsa Di questa misteriosa Sostanza Nel canale Mentre Trascinata Dalle acque Del metauro E' stata salvata Anche una pecora Sull'arenile Di Madonna Ponte Sotto Oggi e domani La festa Del borgo Questa sera Anche lo spettacolo Del San Costanzo Show Con l'incasso Destinato Al film Su Beppe Nigra La carovana Del cuore Per aiutare L'infanzia Dopo essere stata Sulla spiaggia di Pesaro La carovana Del cuore Oggi fa tappa A Fano I Lidi Ospiteranno Le ormai note Magliette Arancioni E Sul futuro Invece Della croce azzurra E della croce verde Timori Per il futuro Soprattutto per circa 50 lavoratori fanesi Che Sono impegnati In questa azienda E sono i dipendenti Della croce verde Della croce azzurra Servizi privati Cui una recente legge Regionale Entrata in vigore Dal 20 luglio scorso Ha sottratto Una parte considerevole Della attività E adesso andiamo A leggere Per chiudere Velocemente Il resto del Carlino Sulla questione Della gioventù bruciata Mio figlio Vittima dei più grandi Si vergogna molto Non infierite La mamma Del tredicenne fanese Per noi è stato Un grande spavento Il pericolo È a Lido di Fano Ci sono troppi ragazzi Di età diverse Che stanno tutti insieme Una volta Non era così Ma il comune Non fa nulla Per queste persone Non fa nulla Per loro È facile dare Delle colpe È accaduto Tutto in pochi minuti Mio figlio È un bravo ragazzo Non etichettatelo Sotto Sotto Invece Anche qui Il resto del Carlino Da Pesaro Si occupa Con due pagine Noi ne leggiamo Soltanto una Ma vedete L'atmosfera magica Delle candele Per una spiaggia Di pinta di bianco Di pinta di bianco Perché? Perché tutti I regolari Ieri Sono stati veramente bravi I pesaresi I turisti Che erano a Pesaro Perché hanno Seguito Le indicazioni Che sono state date Dal comune Quindi Hanno portato le candele Hanno portato a mangiare Eccetera Però erano tutti Vestiti di bianco E questo La dice lunga Insomma Sull'affetto anche Che In qualche modo C'è Tra Il comune E I residenti E i turisti L'effetto Invece Non l'affetto L'effetto Candelara Dove c'è questa Grande manifestazione Invernale Candele Candelare I 40 volontari Della Proloco Trasferiscono al mare Un modello vincente Da anni E già Perché Candelara Ha avuto questa Bellissima idea Di sfruttare il nome E giocarci un po' E di fare questa Iniziativa invernale Che appunto Richiama Migliaia di persone In questo piccolo borgo Illuminato Da migliaia di candele La musica di Rossini Dal teatro diffusa Dagli altoparlanti De Bagnini Le due bande In spiaggia E tanti piccoli Concerti itineranti Ceriscioli Ceriscioli Il presidente Della regione Marche Resta sulla linea Dei tagli lineari Parliamo di sanità Marche Nord Dovrà fare a meno Di 1.700.000 euro Più altri 500.000 Nel semestre Sposata La linea Spacca Ex Presidente Compreso L'unico punto Nascita E pediatria Tra Pesaro E Fano Quindi Sposata La linea Di spacca Il cambiamento E il necessario Riequilibrio Può attendere Al via la gara D'appalto Per il CUP Ancora Dal Carlino Truffava A nome dei VIP Showman In manette Falsa documentazione Di Cairo Armani E Carrara Per avere Ico 12 Per avere 12 iPhone Hervè Olivetti 40 anni E il suo Complice Ceco Dalle pagine di Fano E Valle del Cesano Del resto del Carlino Ruggeri Cittadino Onorario Con Dedica Stiamo parlando Del celebre cantante Cantautore Marotta È una donna Che ti invade Il cuore Ha detto Enrico Ruggeri Durante Questa cerimonia Qui lo vedete Insieme al sindaco Di Mondolfo Pietro Cavallo Mi sento Dice Il cantautore Mi sento parte Integrante Di questi luoghi Dell'anima Qui ho dato I miei primi baci Ed evidentemente Lì ha avuto Le sue prime ispirazioni Anche per Scrivere canzoni Come bellissime E straordinarie Come il mare d'inverno Con la svuota carceri Addio sicurezza La denuncia Dei 5 Stelle Di Fossombrone Mancano I controlli E con questo Chiudiamo qui la nostra Segna stampa Io vi ringrazio Per averci seguito Vi auguro Una buona giornata Vi ricordo che Questa sera Per chi ama Il calcio d'estate C'è l'amichevole Allo stadio Mancini Tra l'Almaio Entusfano E l'Ancona E quindi Insomma C'è questo appuntamento Che anche noi Seguiremo E che quindi Vi ritrasmetteremo Poi Nei prossimi Giorni Buona giornata Grazie a tutti Grazie a tutti